Una situazione anche ridicola secondo me, Kafka ci avrebbe scritto qualcosa. Il comune intima di mettere in sicurezza il casolare di San Polo che però è ancora sotto sequestro in quanto teatro di un delitto, insomma una vicenda che ha dell'incredibile. Protagonista a suo malgrado Sandro Mugnai, l'aretino che lo scorso 5 gennaio aveva sparato con una carabina contro al vicino che stava tentando di buttargli giù la casa a colpi di Benna uccidendolo. Il casolare pesantemente danneggiato fu subito dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Ovviamente non è in sicurezza e questo è sicuro perché tra l'altro c'è proprio una questione di stabilità. Nessuno può ancora entrare ma il proprietario dell'immobile è arrivata alla lettera protocollata dal comune di Arezzo che lo invita a provvedere ai lavori per rimettere in sesso l'immobile, procedura standard che però non ha tenuto conto dei sigilli. Incredibile però è così, ovviamente abbiamo già provveduto a comunicare al comune che essendo sotto sequestro è impossibile, di conseguenza credo che su questo aspetto almeno non ci saranno ulteriori problematiche. La casa è stata al centro anche della perizia balistica che dovrà confermare o smentire il racconto fatto da Sandro Mugnai. Abbiamo fatto anche un'istanza di dissequestro perché ritenevamo o comunque pensavamo che gli accertamenti fossero stati effettuati, tutti invece il giudice l'ha ricettata dicendo che ci sono ulteriori accertamenti, di conseguenza siamo in attesa. Mugnai era stato arrestato la notte stessa dell'omicidio, dopo quattro giorni di carcere per omicidio volontario era stato scarcerato dal GIP che gli aveva riconosciuto la legittima difesa ma è ancora indagato per il reato più pesante previsto dal codice penale. Pur nella gravità di quello che è successo è sicuro che non poteva fare altro.